Vedi, no, adesso tu stai girando. Adesso qua fai un lato e un destra. Il design è proprio... Tante prove da superare. Cosa vuol dire questo cartello? E' vero. Ma dai, sono andato fuori. Non c'è più volte. Quando c'è questo cartello cosa vuol dire? Di non entrare. Di non entrare. Perché? Cosa succede? Ora. Ok, perfetto. Soprattutto fare molta... Attenzione! Bravissimi! Adesso facciamo...